Musica Teatro Massimo, soggio in piazza Giuseppe Verdi, nel centralissimo incrocio, tra l'ero 07, via Cavour e via Macqueda. E' il più grande creato lirico d'Italia, e' il terzo d'Europa. Fu costruito tra il 1875 e il 1891, ad opera di Giovanni Battista e Filippo Basile, e del frio Ernesto Basile. Le colombe, i capitelli, le decorazioni, la simetria architettonica e lo sviluppo spaziale, armonico, sono di gusto neoclassico, di ispirazione greco-romana. Il portale Corinzio a sei colonne si erge sopra la monumentale scalinata ai lati della quale sono collocati i due neoni bronzei di Benedetto Civiletti e Mario Rotelli. Nel progetto del Basile, la sala comprensiva di palchi e loggione, poteva contenere 3000 spettatori. Oggi le norme consentono una ricettività di 1247 posti. La sala è famosissima per l'acustica perfetta, e' a ferro di cavallo, con 5 ordini di palchi e più loggione. Il soffitto è mobile per consentire la reazione dell'ambiente. E' composto da grandi pannelli in linea, frescati sul frontone della facciata e incisa la frase. L'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. La programmazione comprende spettacoli, opere liriche, concerti e balletti.